Musica Piadina di riso, morbida, velocissima e senza glutini Musica Ciao ragazzi, benvenuti nella cucina di Vivo Gluten Free Finalmente siamo riusciti a fare le piadine di riso Prese in prestito, trafugate dal canale di Anna Lisa, Casa Superstar Sono facilissime, buonissime e davvero una svolta Mille farciture, tutte buonissime Seguite la ricetta, ci vediamo subito dopo Il bello è che si arrotolano e non si spezzano Farina di riso, acqua, sale Metto a bollire l'acqua in un pentolino Quando bolle, butto dentro la farina e il sale E mischio per bene a fuoco basso Quando è tutto agglomerato, spengo il fuoco e lascio raffreddare Adesso il composto deve raffreddare perfettamente Potete decidere di lasciarlo in pentola oppure fare come me Cioè spargerlo sulla spianatoia per fare un attimo prima Io scelgo anche di compattarlo un attimino Perché adesso è caldo ed è più lavorabile Occhio che è molto caldo Se volete accorciare ulteriormente i tempi Dividete già direttamente l'impasto in palline che poi diventeranno le piadine Con questo impasto, quindi 350 g di farina, vengono circa 6 piadine medie Ecco, alcune più grandi, alcune più piccole Per farlo venire bello grigliato il pollo Io lo lascio cuocere anche nella parte superiore Senza girarlo Altrimenti poi ti perde tutti i succhi E non diventa un po' lesso Invece così, quando proprio cambia anche colore dall'altra parte E non ha più liquido Lo giro Mentre la farcitura delle piadine soffrigge Noi riprendiamo le nostre palline Che nel frattempo sono fredde Ma si sono un po' seccate in superficie E le rilavoriamo un attimo per farle ridiventare appiccicose E farle rinvenire un attimo Poi riformiamo la pallina E finalmente con un po' di farina di riso Stendiamo Le piadine a noi piacciono non tanto grandi In modo da averne più di una E poterla farcire come più ci piace Mentre le lavorate Mentre le stendete Mettete subito sul fuoco La padella Così intanto vi si inizia a scaldare Adesso vi faccio vedere Quella che usiamo noi Questa è la padella da pancake Vissutissima Che noi utilizziamo quasi ogni mattina Per i pancake È molto indicata per le piadine Perché è bella liscia E naturalmente antiaderente Io In questa fase Cioè quando è molto calda Siccome Luca la usa con i pancake Con farina di riso Vorrei Cioè voglio Togliere i residui di farina di riso E faccio così Con un goccio d'olio Vedete Per una pulizia Più a fondo Oltre a Acqua e sapone per i piatti Potete usare anche i fondi di caffè Che sono leggermente abrasivi E tolgono tutti i residui Vabbè Comunque questa padella La cambieremo a breve Penso Mettete semplicemente la piadina Io ho contato Tre minuti Il fuoco Non è Non è basso Diciamo che è meglio Nè troppo basso Nè a palla Tre minuti Però poi regolatevi Perché chiaramente Deve prendere Quel bel colore Classico della piadina Attenzione Perché la prima piadina Viene sempre diversa Da tutte È dalla seconda in poi Che fa testo Questo discorso Allora Mentre le ultime piadine Quacciono Io Ultimo le mie farciture Con Pollo grigliato Che vado a Salare Leggermente Le zucchine Stessa cosa Sale E olio Ehi Google Non adesso Per piacere Ok Ehi Google Spegni il timer Le zucchine Con sale E olio Naturalmente Potete aggiungere Anche il prezzemolo Se non avete problemi Di intolleranze E Questi peperoni Che ho semplicemente Saltato in padella Come uno spicchio d'aglio Adesso Anche qui Aggiungo un pochino Di sale A completare Il tutto Un pochino di rucola Sulla mia Di piadina Perché io La farcirò Con i peperoni Che Luca Non può mangiare E se li potesse Mangiare Non li mangerebbe Allora Si è aggiunto Un nuovo ingrediente Dello stracchino Che ci sta benissimo Perché Dà un pochino Di cremosità Al tutto Ho preso le pinze Con una mano E sto facendo Mettendo Il pollo Con le mani Dell'altra mano Vabbè Direi che la possiamo Poggiare La pinza Ragazzi Questo è piatto unico Quindi Abbondate Con il pollo Il pollo ragazzi che dire io avevo visto questa ricetta un sacco di tempo fa e mi è tornata in mente quando Luca ha deciso di rimettersi a dieta molto molto stretta a basso contenuto di nickel a proposito seguite il diario del malato immaginario che è lui che mi guarda dietro la telecamera e tornano comodissime perché sostituiscono il pane si fanno velocemente io sul sito ho un'altra versione di piadina di riso però non faccio difficoltà a dire che sono un pochino più difficoltose perché impiegano molto tempo a cuocersi queste si cuociono in due minuti e come dice Annalisa potete anche prendere una tazza per misurare le quantità perché si usa stessa quantità di farina di riso e acqua e potete sperimentare a farle anche con altre farine quindi veramente un mondo da scoprire le farciture chiaramente sono milioni che ne dite se arrivano amici a cena e ci sono dei celiaci o degli intolleranti e voi presentate questo tagliere per antipasto ma anche come piatto unico con 3000 condimenti e vi faccio lo stesso discorso delle tigelle preparate diverse sfiziosità mettete le piadine vuote a tavola e ogni ospite si condirà in autonomia la propria piadina una cena con i fiocchi e pensare che è anche per intolleranti noi ci vediamo al prossimo video spero tantissimo che vi siano piaciute le mie piadine se le rifate fatemi sapere e taggateci su Instagram perché noi ricondividiamo tutte le vostre esperienze se le fate con altre farine fatemelo sapere lo stesso perché il telefono chiaramente manda le notifiche quando stiamo registrando ci vediamo al prossimo video mi raccomando ragazzi alla prossima buon assaggiare? ci vediamo al prossimo video ciao